ciao amici sono qui in campagna che insomma come vedete siamo quasi all'imbrunire vedete questa qui è tutta campagna ok perché tra poco areranno il campo e quindi corro a raccogliere quelle che noi chiamiamo rosoline e altri le chiamano rosacce comunque sono la base del papavero e poi vi dirò che cosa ci vado a fare eccone subito una qua bella grossa eccola qua ecco questa è una rosolina che io vado a togliere per comodità ecco non sono riuscita prendo solo le foglie perché è grossa eccola qua questa è una e vicino qui c'è un'altra piccola vedete qui da qua nascono poi i papaveri allora siccome o se piove o che cosa non riesco poi più a raccoglierle e allora insomma me ne faccio una bella scorta perché oltre che a fare quello che poi vi farò vedere farò anche blessate insomma le metto nel congelatore ciao a tutti oggi cosa ho fatto sono andata per campi a raccogliere quelle che noi qui in vento chiamiamo rosoline e sono queste qua che sarebbero diciamo la base dei papaveri ecco sono molto buone perché sono dolci allora raccogli un bel po insomma per fare un qualcosa che dopo vi farò vedere allora e cominciamo a a vedere come come si puliscono allora ovviamente né più né meno che come gli spinaci allora taglio questa parte sotto che è così è tutto le foglie le metto a bagno e poi le passo da una vasca all'altra finché rilasciano tutta la terra ecco la conformazione qui in veneto si usa adesso prima che ari non sono corsa perché sennò poi una volta rato non non le possiamo più raccogliere insomma perché girano la terra eccomi qua in venti minuti ho lessato ho lessato queste rosoline le ho lessate e li ho fatto senza acqua cioè nel senso che poi togliendole dall'acqua e sbattendo un po un po d'acqua la conservano poi dovete strizzarle bene come vedete io le sto sminuzzando anche se non servirebbe molto con le trinciapolli io vado bene così ecco arrivata qua ci metto un po di sale un buon pizzichetto di sale e con la forchetta le vado a bagnamare un pochino ecco qua poi che cosa ci metto ancora ci metto un po di aglio secco eh sì un po di aglio secco ecco aspetta me lo metto qua non so se si vede non è molto ancora un po perché sennò non mi regolo scusate magari voi siete più bravi ecco qua così cos'è la punta di un cucchiaino ecco mescolo ancora che cosa vado a fare ancora non ve l'ho detto poi ma guarda che che blogger che sono vado a fare delle polpette alla ricotta allora a parità di peso questi sono 250 grammi di rosoline ci vado a mettere 250 di ricotta anche questa l'ho scolata dall'acqua mi raccomando l'acqua di strizzare bene sia la verdura lessata e sia la ricotta altrimenti poi sono piene d'acqua e quindi poi non va bene ecco arrivata a questo punto che io l'amalgamo vi volevo dire che appunto queste rosoline che qui in veneto insomma prima dell'aratura dei campi noi andiamo a raccogliere che sono la base dei papaveri che volevo insomma non volevo neanche parlarvi più delle polpette perché i papaveri sono talmente belli e sono quelle chiazze rosse di colori nei campi bellissimi davvero bellissimi e tra l'altro chi ha a che fare con me non potrà mai regalarmi il mio fiore preferito in quanto il mio fiore preferito è proprio il papavero e come si sa una volta raccolto il papavero appassisce quindi mi devo limitare a guardarlo nei campi aggiungo un uovo ok e vado ancora a mescolare ok vengono molto morbide sono una squisitezza perché questo tipo di verdura di erba selvatica insomma è molto è molto dolce non è tipo il tarassaco che è amaro cioè però depura diciamo no il tarassaco è amaro ma depura intanto ovviamente io le frigo ma sempre con poco olio intanto scaldo l'olio e poi vi farò vedere come vengono allora qua io aggiungo uno e due e tre e quattro questo era un po stasso perché non riuscivo a prendere comunque sono quattro cucchiai di parmigiano se vi piace potete anche aggiungere non so pecorino io preferisco il parmigiano più dolce e secondo me si armonizza meglio con il dolce di questa verdura di queste rosolacce allora pangrattato un cucchiaio intanto provo con due per vedere la consistenza ok e mi sembra che insomma siano piuttosto consistenti che non abbiano bisogno che non abbiano bisogno di altro ecco qua con tutto ciò con un cucchiaio vado a formare la mia polpettina allora pallina schiacciatina la passo nel pangrattato eccola qua questa dimensione questa grossezza non so se si vede no e adesso vediamo come vengono in cottura qua mi sembra che ora l'olio sia caldo e vado a mettere le mie polpettine come vi ho spiegato l'altra volta purtroppo ho il forno che pende questo gas che pende da una parte quindi mi viene più olio da una parte che dall'altra vabbè eh vabbè pazienza pazienza quando diventerò ricca comprerò una cucina dritta va bene? così vabbè la cottura è breve perché è tutto cotto ovviamente ecco qua in proposito questo diciamo piatto così un po' dell'ultimo momento intanto diciamo già che è a costo praticamente zero perché le erbe appunto le vai a raccogliere poi insomma il pane il pane raffermo abbiamo un po' di grana e la ricotta che insomma come sappiamo non costa molto ecco quindi poi io vi faccio vedere che le andrò a scolare su questa la mia carta del pane perché per me è la migliore per scolare l'olio ecco quando si sono un po' vedete non si disfano perché sono bene in sé ecco io adesso non so ehm le ho fritte con l'olio d'oliva ma potete farlo anche con l'olio di seme ma potete fare anche in forno è perché appunto questa sera la famiglia le vuole fritte e le faccio fritte e vabbè insomma no con poco olio ovviamente e comunque ci stanno brevemente e non non ne dovrebbero nemmeno assorbire ecco intanto le vado un po' girare le mie polpettine sentiste che profumo che c'è mi dispiace che non posso usare tutta la padella perché ne facevo una unica di 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 però o ci metto molto olio ma poi non sono molto propensa a fare questa cosa ecco come vedete le sto girando e stavo dicendo prima vedete devono diventare di questo colore non di più perché comunque c'è poco pangrattato e ho trovato il sistema faccio così mentre cuociono e l'olio è un po' dappertutto avete visto sono un genio sono volevo in questo in questo senso eh ringraziare insomma Barbie della cucina dei suoni che mi ha ispirato l'erbe di campo no con la sua buonissima frittata di bruscandoli anche lei ama andare per campi a raccogliere queste cose e niente è colpa sua che poi stamattina sono andata e ho fatto le polpette un po' di lavoro ci vuole comunque insomma come avete visto le rosoline si insomma si puliscono un po' come di spinaci e quindi insomma ecco qua la mia polpettina che è pronta fumante buona e profumata con tutto ciò oltre a salutare i miei amici di cocina metropolitana Gianni che lo sbaglio sempre lpx mi sembra a salutare barbie della cucina dei suoni tutti bravissimi chef da seguire ogni tanto mi faccio una scarellata dei loro video ma non dimenticatevi di me però la cucina di patti scrivetemi mettetemi like seguitemi no e se no mi sento inferiore ciao ragazzi e auguratemi intanto buon appetito che vado a mangiare le polpette ciao a tutti like scrivetevi e seguitemi ciao e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti